Ciao ragazzi, io sono DiGioColus e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo in compagnia dei miei due amici Impapis e Frocket Per registrare un video nella nostra vanilla Si, non sembra perché abbiamo cambiato casa Avete visto l'ultimo video? Se non l'avete visto andate a vedere Anche perché Poi lo lascerò in descrizione Allora, super annuncio frocchettoso Allora Se arriviamo a 100 iscritti 100 iscritti Ha fatto pure il commento, quindi Non l'avete sentito Ho fatto il commento Si, si Faremo una nuova vanilla Dove non faremo solo Nuova? Io DiGiugoli Ma che sei scemo? Ma pensavo che ci avrei più vita No Le ho scoperto No, 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 bello No, no, bello, bello No, 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 ma schifo, ma schifo No, 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 mi volevo le passo Galalist Facciamo una vera sculchi in casa Appunto E non ci sarà solo DiGiugolish, Mopapis, Crocchett E diGiuglio Mattia, bravo che ho Ma ci saranno anche altre tre persone Non mi possiamo dire però il nome Diciamo solo il nome della prima persona No, diciamo solo il nome della prima persona Domani diremo il nome di un'altra persona E dopo domani il nome di un'altra Ah no A cento iscritti il nome della terza persona La più importante Ok, allora Prima persona WP Chi? WP Ah WP, WP È vero, sì WP Io lo chiamo WP WP Io ne dico altro Ma sai che WP non ancora manca? Bravo, grazie Più in là ce l'avrà E sì, ho capito Ma se arriviamo a cento iscritti domani Cosa molto improbabile Si unirà più in là nella vaniglia Ok Intanto oggi vi abbiamo detto A WP Prendete carte penna A WP No, stop E se arrivate a cento Venti iscritti Faccio una live Sì, sì Live su Minecraft Molto Però di sera Attenzione No No E se arrivate E se arrivate a cento E se arrivate a cento Corriere scritti Facciamo 140 Così poco Scusami eh 160 Come minimo Per fare questo 170 iscritti A bonda Allora Pensa Pensa Che possiamo fare Una cosa di bellissimo Perché sarà un traguardo Bene Facciamo una live Su Roblox Ok Sì Ma non è su Roblox Lui su Roblox Si chiama Trossor Se io già ve lo dico Per questo lo chiamavo Io invece mi chiamo un Popis Ok Cambierò ovviamente Mettere a Procast Perché sono Fuori luogo Sì Molto fuori luogo Anche perché quando Facciamo Sì Sì Siamo sponati Esattamente in questo Blocco qua Ma una paletta Piccoletta Piccoletta Nessuno ce l'ha La pala meccanica Anche l'ha No 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 noi da si dicevo Sponati in questo blocco qua Sì All'inizio Una serie Torine Interimor A già fare Torine Il blocco zero Ah Eh noi abbiamo fatto la casa Vicendo il blocco zero Penso po' Penso poco Io l'ho trovato Contri Santi E molto Io l'unica cosa che dovrei fare E farmi Una bellissima pancia Perché Matti mi hai picchiato Ma perché Matti Vuole sempre picchiare la gente Vai Quattro Oh Matti basta C'ho tre cuori Paluccetta Paluccetta Vai Buia Ma se io dico Paluccetta Mattia basta Ragazzi lo bagniamo Lo bagniamo Se mi dà una cosa Sì sì Lo bagniamo Molto bene Molto bene Sì nei commenti Sì nei commenti Sì ne sbaglano Patti Guarda allora io vado a pennella Sì 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 Non so perché Ah rigenerando la vita Matti Bambù 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 Steph 23 27 Io ne ho 30 Ah io voglio RESTONE No no tu no Ma sbattere via un po' Via Ok ecco qua il mio amico Il mio amico da RESTONE Ragazzi andiamo tutti Ah Ah io sono caduto Eccoci qua Quante me ne hai dato 15 Un lana un gioia Lo devo cavalcare Devo diventare suo amico Sì sei l'amico di un lana Vai Come lo chiamiamo questo qua Ragazzi che corticelli abbiamo Come lo chiamiamo Come le corticelli abbiamo Non lo so Ah io ne devo Dovevo mettere una No fermo Io non c'erò le corticelle Ragazzi mi sa che C'è un altro lana Posso prendere le corticelle Ci sono altre due lana No Tommy uno è mio Uno è tuo Perché a me Mi servono le corticelle A me invece serve un lana Perché voglio Me la droppare Ah le corticelle di dannio Mi crato un guinzaglio Le corticelle di dannio ce l'ho Le corticelle di dannio ce l'ho Le corticelle di guinzagli Porto un lana a casa Come lo vuoi chiamare Come lo chiamare? Io lo so Lo chiamo Lo prendo con guinzaglio Vieni Gianfranco Ma come lo vogliamo chiamare? Ah Gianfranco Sto portando Gianfranco a casa Io pensavo con un altro nome Ma giusto per una cosa Ah le pensate se si servono Le pensate Ragazzi anch'io ho un mio lana E basta che devi farvi ricopiare Allora ma si E tommi che sti del fesso? Ah è un mezzo tu Io so il guinzaglio Io ho il putè Aspetta tommi Dove sei? Sì? Dove sei? Dove sei? Sto qui davanti a casa E vattene Voglio mettere il putè Ma non posso prenderti quel pulsaggio Che? Perché mi ha fatto un lana? Perché chi va? Non è un lana? No Io sono il putè E vabbè ragazzi Lo direi che ora che ci abbiamo fatto Anzi un lana come amico Lasciate un sacco di mi piace Iscrivetevi al canale Perché ovviamente Se siete qui si fermo una mani Levo tantissime Mi sa tu Ma pagalo Ma in casa Sono bella Mi fortuna Ciao Ciao